Auto in fiamme davanti all'abitazione del proprietario. Paura nella contrada di Sallucio, a Bovillernica, e dalla seconda in sei mesi, sempre in piena notte e nello stesso punto. Gli investigatori dell'arma e i vigili del fuoco non escludono la pista dolosa. Un episodio grave e ancora da chiarire quello che si è verificato l'altro ieri sera. Erano le 23.40 quando uno degli avventori di un locale pubblico, uscendo a fumare una sigaretta, ha distrattamente notato un luccichio in fondo alla strada, all'interno di un'auto in sosta, al centro del cruscotto. Ma non ci ha dato peso. Poco dopo, un altro avventore uscito per lo stesso motivo ha visto una Toyota Yaris avvolta dalle fiamme. È subito rientrato chiedendo un estintore. Il gestore ha allertato i vigili del fuoco. Decine di persone si sono riversate in strada per capire cosa stesse accadendo. Le fiamme hanno raggiunto un'altezza di oltre 10 metri fino a superare il tetto dell'abitazione. I presenti hanno temuto che potesse esserci un'esplosione. I proprietari dell'automobile, che a quell'ora erano in casa, a pochi metri dall'incendio, sono stati colti da forte spavento e terrorizzati hanno preferito rimanere in casa. I vigili del fuoco hanno provveduto ad eseguire i rilievi tecnici dai quali sarebbe emersa la possibilità che si tratti di un fatto doloso. Una circostanza questa che tuttavia è ancora da accertare. E a questo stanno pensando i carabinieri della locale stazione intervenuti insieme ad una pattuglia di alatri. Dopo lo scampato pericolo, anche i proprietari sono usciti in strada. Poi sono stati ascoltati dai carabinieri presso la stazione di Bobilli Ernica fino alle prime ore del mattino, alla ricerca di indizi utili alle indagini. La carcassa dell'automobile è stata affidata ad un deposito giudiziario in attesa di ulteriori indagini. Intanto a destare preoccupazione sia per i proprietari che per i residenti il fatto che lo scorso novembre 2017, quindi solo sei mesi fa un'altra automobile della stessa famiglia, parcheggiata nello stesso punto era stata distrutta dalle fiamme. Le indagini del caso, come si diceva, sono scattate immediatamente.